Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il significato del termine musica non è comunque univoco, ed è molto dibattuto tra gli studiosi per via delle diverse accezioni utilizzate nei vari periodi storici. Etimologicamente il termine musica deriva dall'aggettivo greco. Musikos Musikos, relativo alle muse, figure della mitologia greca e romana, riferito in modo sottinteso a tecnica, anch'esso derivante dal greco. Tecne Tecne, in origine il termine non indicava una particolare arte, bensì tutte le arti delle muse, e si riferiva a qualcosa di perfetto. Si è spento a Roma, all'età di 72 anni Vittorio Descalzi, ad annunciarlo la famiglia, con un post molto toccante su Facebook. Vittorio Descalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran Ring of Kerry, l'Irlanda più autentica colline verdi e laghi scintillanti, pecore e mucche al pascolo. Spiagge incontaminate e scogliere maestose. Ti presentiamo il Ring of Kerry, turismo irlandese. Grazie a tutti per l'amore che in tutti questi anni vi avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola quella carezza della sera. Lui vi ascolterà.